Eccoci rientrati per l'ultimo blocco di Blue Basket, ci parte per un attimo appunto la Serie A, abbiamo parlato questa sera anche di NBA e ci occupiamo di basket regionale, tratteremo le categorie inferiori tra cui la DNB, dove hanno giocato questa settimana lo Stuni e il Francavilla e poi ci occuperemo di Serie C regionale presentando subito i nostri due ospiti, Luigi Minghetti che è rimasto con noi dalla prima parte di Blue Basket, ciao Luigi, ciao E saluto anche il pivot della Sibri, inizio Antonio De Nitto, ciao Antonio